Musica Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la nostra rubrica Dottore Medica. Quest'oggi siamo con il Dottor Renato Pozzolanti, dirigente medico della neurologia ospedaliera degli ospedali giuniti di Foggia. Grazie Dottore per essere con noi. Con il Dottor Pozzolanti affronteremo il viaggio in una delle classiche patologie, quella ormai sempre più diffusa, il classico mal di testa, ovvero la cefalea più nota nel termine medico. Con il Dottor Pozzolanti cercheremo di capire quanti tipi di mal di testa ci sono, se si può curare, quali sono i sintomi e se c'è soprattutto una struttura ospedaliera di riferimento per curarsi. E allora Dottor Pozzolanti, abbiamo detto che il mal di testa è la patologia più diffusa. Che cos'è però la cefalea? Perché sempre più spesso si sente parlare di questo termine e molte volte si fa anche una cattiva distinzione dei diversi tipi di mal di testa. Allora la cefalea è un dolore, un dolore localizzato al capo che riconosce quale causa una situazione un po' complessa. Cioè praticamente tutti gli stimoli nervosi che afferiscono a livello trigeminale praticamente scaturiscono in questo tipo di dolore. Gli stimoli nervosi che arrivano a livello trigeminale sono quelli che vengono percepiti sia dall'acute a livello cutaneo sia a livello intracranico, quindi a livello delle meningi, a livello dei vasi intracranici arrivano a livello trigeminale e poi vengono praticamente, si manifestano con questo dolore. Classico mal di testa? Classico mal di testa, classico mal di testa. Dottore, quali sono le cause che fanno scaturire il mal di testa a una cefalea piuttosto che un'altra? Le cause sono numerose. La prima cosa che dobbiamo dire è che la cefalea può essere distinta in cefalea primaria e cefalea secondaria. Che vuol dire? La cefalea primaria è quella che riconosce praticamente la idiopaticità della causa. Cioè non c'è una causa vera e propria, ma c'è praticamente una disregolazione del sistema nocicettivo. Cioè praticamente il sistema che regola il meccanismo del dolore va un po' in tilt, diciamo. E quindi praticamente parliamo di cefalea primaria, idiopatica. Invece l'altro discorso è le cefalea secondaria, cioè le cefalea che sono determinate da una causa. Sinusale, la febbre, vascolare, un disturbo metabolico. Numerose sono le cause della cefalea. Diciamo, fortunatamente le cefalee secondarie hanno una percentuale inferiore rispetto a quelle primarie. Invece quelle primarie sono quelle che riguardano più il neurologo, per cui sono quelle su cui ci concentriamo. Ha fatto una distinzione e ha evidenziato più volte la cefalea primaria. Vogliamo spiegare che cos'è e che cosa intendiamo? Sì, allora le cefalee primarie, tra le cefalee primarie noi annoveriamo la emicrania, la cefalea tensiva e la cefalea grappola e alcuni tipi di nevralgie. L'emicrania è la classica cefalea che il neurologo vede. L'emicrania è un tipo di cefalea che ha delle caratteristiche particolari. Infatti la cosa che volevo dire è che la diagnosi di cefalea è una diagnosi clinica, non esiste un esame laboratoristico che ci fa fare la diagnosi. E il clinico che guarda il paziente, lo interroga, dice tu che ti senti, il paziente gli spiega i sintomi, in base ai sintomi che il paziente gli dice viene fatta la diagnosi. Quali sono i sintomi che fanno scaturire questo tipo di cefalea o i diversi tipi di cefalea? Allora, le varianti sono la durata, cioè quanto tempo ti dura sto mal di testa, che tipo di mal di testa hai, senti battere all'interno della testa, senti come un cerchio, senti come un peso, è una fitta, è una cosa che ti spinge, quindi durata, caratteristiche, quindi qualità del dolore. Poi questo dolore si accompagna ad altri sintomi, cioè che ne so, hai nausea, hai vomito, hai fotofobia, oppure quando prendi un antinfiammatorio il dolore si toglie, oppure quando fai qualche cosa, che ne so, attività fisica, il dolore permane, rimane, cioè ci sono delle varianti. In base al tipo di risposta che il paziente ci dà noi ci possiamo orientare verso un tipo di diagnosi, quindi un'emicrania, una tensiva, un grappolo. Ecco, nello spiegare magari il mal di testa nello suo specifico, perché vedo che più volte lei differenzia i tipi di mal di testa, se un paziente dovesse rivolgersi a un neurologo, a uno specialista, oltre a rispondere alle vostre domande, ci sono degli esami specifici che vi portano a dare una diagnosi certa del tipo di mal di testa? Esami specifici, allora, ci sono esami specifici che si possono fare, e ti spiego, cioè la gente soprattutto si rivolge a noi perché viene mandata dal medico curante, il quale, quindi diciamo, come primo approccio vede il paziente con la cefalia, poi dice vai dallo specialista che lui vede quello che deve fare. Diciamo che gli esami si fanno però non a tutti i pazienti, cioè per esempio un paziente che ha una cefalia che dura da tantissimi anni, 10 anni, 20 anni, diciamo che questo è un paziente che per noi è un paziente tranquillo, tra virgolette, nel senso che sicuramente non può avere un problema tumorale o qualche altra cosa, ha una cefalia che è evoluta nel tempo e quindi va seguita, va curata sicuramente. Gli esami vanno fatti per esempio per escludere cose secondarie e quindi praticamente cefalie che insorgono da poco sono quelle un po' più pericolose, cioè sono quelle che vanno un po' più tenute sott'occhio, oppure pazienti anziani, pazienti ipertesi, pazienti che fanno gli anticoagulanti orali, pazienti che hanno avuto un trauma, ma ecco, diciamo, in questi pazienti è più indicato fare dei controlli neuroradiologici. In sostanza per intenderci, un paziente arriva da lei e le spiega che non ha mai avuto mal di testa nella sua vita, non ha mai sofferto di mal di testa, però improvvisamente accusa dei dolori alla testa. In quel momento scatta il campanellino d'allarme in sostanza? Assolutamente, quello è un paziente da valutare bene, bisogna capire quanti anni ha, qual è la sua storia clinica, che tipo di farmaci assume al domicilio, è stato sempre bene la prima volta, ha avuto febbre, hai fatto gli esami del sangue, in quel caso assolutamente sì, va indagato il paziente. Invece, dottore, nel caso dei pazienti che convivono con un mal di testa, qual è il percorso terapeutico? Cioè, basta la classica pillola antinfiammatoria antidolorifica o c'è un piano terapeutico da seguire? Assolutamente sì, assolutamente sì. Le cure esistono, migliorano la qualità della vita del paziente, assolutamente sì. Sono cure che possiamo distinguere in cure dell'attacco, cioè praticamente cosa devi fare quando c'è il mal di testa, oppure cure di profilassi, cioè cosa devi fare per prevenire il mal di testa, per prevenire l'insorgenza del mal di testa. Nell'attacco tutti quanti utilizziamo il FANS prevalentemente, anche se il FANS non è il farmaco di prima scelta nell'emicrania, perché nell'emicrania abbiamo un farmaco specifico che appartiene alla classe dei triptani, cioè sono dei farmaci che agiscono su quel meccanismo di cui abbiamo parlato prima, trigeminare un po' complesso, sono dei vasocostrittori, quindi vanno assunti all'inizio della crisi di emicrania, cioè vanno assunti subito, non bisogna attendere che il mal di testa diventa, lo sbaglio che molti pazienti fanno, aspettano che il mal di testa passa da solo, e quindi se aspetti un'ora, due ore, tre ore, c'è una sensitizzazione centrale, ci vuole più tempo per agire. Poi quando aspetti, entra in gioco il vegetativo, quindi c'hai il vomito, la sudorazione, la nausea, bisogna agire subito sul mal di testa. Noi consigliamo ai pazienti emicranici di assumere subito il farmaco, i primi sintomi della cefalia, assumi il suo triptano sublinguale e il mal di testa in 10 minuti, un quarto d'ora passa. Questo tipo di percorso di cura è per tutti i pazienti o per quei pazienti invece che vivono e convivono con il mal di testa? Cioè è un piano terapeutico oppure è una soluzione momentanea al mal di testa? Giusto, ottima domanda. Ci sono dei criteri, praticamente le linee guida scientifiche internazionali dicono che se tu hai mal di testa per due, tre volte al mese, non altamente invalidante, puoi fare soltanto la terapia d'attacco. Se tu invece hai un mal di testa che è superiore alle tre, quattro volte al mese, altamente invalidante, durante il ciclo mestruale, ti fa stare 4-5 giorni a casa, non vai al lavoro, in quel caso c'è invece l'indicazione, l'utilizzo di una profilassi. Che cos'è la profilassi? La profilassi è una terapia che devi fare tutti i giorni. O ce l'hai il mal di testa, o non ce l'hai, comunque devi prendere un farmaco che ritarda praticamente l'insorgenza della cefalia. A questo riguardo devi prendere un farmaco, quindi un composto chimico, che sia il beta-bloccante, il calcio antagonista, l'antiepilettico. Ultimamente veramente c'è molto interesse sulla nutraceutica, non so se ne hai sentito parlare. Sì, la nutraceutica praticamente, ci stiamo concentrando sull'utilizzo nei pazienti con l'emicrania, ma non solo, sull'utilizzo di composti naturali, pseudonaturali, il tarassaco, il partenio, il magnesio. Hanno la loro validità. Quindi, per esempio, nei soggetti che potrebbero essere allergici ai farmaci, questa sarebbe la soluzione? Assolutamente, assolutamente. Una terapia di profilassi da assumere tutti i giorni, due volte al giorno, all'inizio della cura, poi si prosegue con una sola compressa al giorno. C'è una riduzione nella frequenza, nell'intensità della cefalia. La popolazione che soffre di cefalia è più una popolazione giovane o una popolazione anziana? Il picco di incidenza della cefalia è tra i 20 e i 30 anni. Però c'è una curva che va dai 17 anni, 20-30 anni cresce, 40 anni comincia a decrescere, 50 anni, 60 anni poi decresce. Diciamo che c'è un picco, c'è un picco intorno alla maturità, anche considerando che la cefalia è donna, tra virgolette, purtroppo. Quindi è legata un attimino anche al ciclo mestruale, non tutte le cefalie, però l'emicrania è legata al ciclo mestruale. Quindi c'è un picco nella maturità e poi decresce sia nella prima fase che nella fase della maturità, dell'anzianità. Qual è il tipo di cefalia più diffusa nella popolazione foggiana? Sicuramente la cefalia tensiva, sicuramente la cefalia tensiva, anche se l'emicrania, tra tutte le sue componenti, quella senza aura, quella con aura, ha un forte impatto. La cefalia tensiva è una cefalia molto, molto, molto diffusa. È una cefalia caratterizzata da una sensazione di peso, di cerchio, la gente si sveglia già con la cefalia, cioè diventa addirittura quotidiana, tende ad assumere tutti i giorni i farmaci, la qualcosa è sbagliatissima, perché il farmaco, oltre a dare un abuso, sostiene, paradossalmente sostiene il mal di testa. Quindi praticamente fai del male a te stesso assumendo un farmaco tutti i giorni, però la gente, giustamente, deve andare a lavorare, prendo il farmaco e va. In questo caso sarebbe consigliabile rivolgersi a uno specialista per quel piano terapeutico di cui abbiamo parlato prima. Assolutamente, per fare una profilassi ed evitare di assumere quotidianamente farmaci che, oltre a sostenere il mal di testa, sono anche lesivi a livello cerebrale. Tutti i tipi di cefalia sono invalidanti, cioè ci impediscono di avere una vita regolare? Non tutti, non tutti. Nella fattispecie, l'emicrania è quello che, l'emicrania e il grappolo sono quelli più invalidanti. E quello più invalidante in assoluto è la cefalia grappola. La cefalia grappola ha delle caratteristiche particolari, cioè si manifesta con dei dolori trafittivi, lancinanti. Il paziente li descrive come un dolore di fortissima intensità. Sono organizzati a livello periorbitario, sono delle fitte a livello periorbitario che si accompagnano alla cremazione, sudorazione, rinorrea, sensazione di gelido del viso. E si manifestano a grappoli, cioè praticamente in determinate fasi della propria vita, questi episodi si concentrano. Si concentrano? E' così pericoloso, si sente sempre parlare di cefalia grappolo con molto timore, no? Perché nell'immaginario collettivo questo tipo di cefalia porta addirittura a dei gesti estremi. E' vero che è così? E' vero, è una cefalia di fortissima intensità per cui noi tendiamo a trattarla come profilassi, cioè il paziente che soffre di cefalia grappolo deve fare una profilassi. Si può curare? Si può curare, si può curare, abbiamo molti presidi farmacologici a nostra disposizione. Quello che noi consigliamo ai pazienti con cefalia grappolo è l'ossigeno. Si fa un'inalazione di ossigeno 7-8 litri al minuto per 10 minuti e questo è un primo impatto per la cefalia. Quindi questa è una di quelle cefalee che può invalidare, che può imbedirci di vivere una vita tranquilla. Assolutamente, assolutamente. La cefalia grappolo è una cefalia fortunatamente però poco frequente rispetto all'emicrania e all'attensiva. Meno frequente, però più invalidante. Più invalidante perché le crisi sono ripetute, sono più volte nel giorno, durano, hanno una durata dai 15 ai 180 minuti e tendono a ripresentarsi. Ci sono addirittura dei grappoli che durano un anno. Cioè il paziente ha mal di testa per un anno consecutivamente. Poi sta fermo per un anno, per uno, due anni, non ha per niente mal di testa. Poi gli ritorna. E solo nella cefalia grappolo? Solo nella cefalia grappolo c'è questo tipo di andamento. Quanto incide l'ambiente e lo stile di vita sul mal di testa? E' tantissimo, tantissimo. Lo stress è uno dei fattori scatenanti delle cefali, nella fattispecie della cefalia tensiva. Oppure l'alimentazione. Noi sappiamo benissimo che ci sono degli elementi che scatenano il mal di testa. Cioè degli elementi che si chiamano tiraminosimili, cioè che contengono al loro interno la tiramina, che è un potente innescante delle crisi di mal di testa. Che ne so, il vino rosso, il cioccolato, alcuni formaggi stagionati. Diciamo, ci sono delle regole che il paziente emicranico deve seguire. Un cittadino, un paziente, come fa a capire che è arrivato il momento di rivolgersi a uno specialista? Quando abusa, quando abusa di farmaci, quando il suo utilizzo dei farmaci diventa troppo frequente. Perché io dico, il primo impatto è sempre quello del medico curante. Il medico curante è in grado benissimo di gestire un paziente. Quando il mal di testa diventa troppo frequente, resistente alla terapia, rivolgetevi a noi con fiducia, perché abbiamo tantissimi pazienti. Il paziente con cefalia può stare bene, deve stare bene, perché purtroppo la cefalia è un impegno sia economico sia sociale. E quindi va trattata, va trattata assolutamente. E infine, dottore, prima di salutarci, vogliamo dare un consiglio a quanti ci stanno ascoltando da casa, a chi magari già soffre di mal di testa o a chi sospetta di soffrire di un tipo di mal di testa. Vogliamo dare un consiglio a tutti loro quali sono le regole da seguire e se ci sono. Adottare uno stile di vita particolare, cioè regolarsi in base alle proprie esigenze. Se non puoi fare, che ne so, attività fisica, non la fare, oppure se devi fare un'attività fisica falla di tipo aerobico e non anaerobico, utilizza per esempio non abusare per esempio nell'andare a dormire tardi, cioè regola il suo ritmo sonoveglia in modo tranquillo, utilizza un'alimentazione tranquilla, cioè delle regole di vita che poi ti possono portare a un benessere. Ovviamente laddove tutto ciò non bastasse rivolgiti al centro cefalee, rivolgiti a noi che sicuramente ti possiamo aiutare. Infatti lo ricordiamo che agli ospedali riuniti di Foggia è attivo un centro cefalee per quanti ne avessero bisogno anche perché come abbiamo detto in questa chiacchierata un mal di testa può essere un qualcosa di semplice come invece può essere il campanellino d'allarme di qualcosa di più importante. Noi ringraziamo il dottor Renato Pozzolante dirigente medico della neurologia ospedaliera degli ospedali riuniti di Foggia grazie dottore per essere stato con noi per averci illustrato il classico mal di testa e grazie a voi per averci seguito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.